...di anni miei, scomodo sì, perché non so dacele mai, adesso sai, senza un momento non vivrei, ovunque, cercami, cercami, non smettere! Grazie a tutti! Grazie a tutti! È giunto il momento, cari amici, di fare un piccolo break pubblicitario, però come sempre vi aspetto per la seconda e ultima parte di questa puntata di Romania. Sento la nostalgia, non passate, non passate... Eccoci qui di nuovo in collegamento con la Romagna per la seconda parte di questa puntata di Romania Mia, l'ultima puntata di questa edizione invernale, primaverile 2008-2009. Apro così questa seconda parte con un'altra formazione che ha un grande successo nella nostra Romagna, la nuova Romagna Folk con Serenella, questa polka veramente coinvolgente. Grazie a tutti! 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 A grandissima richiesta, dopo lo straordinario successo del CD concerto per Secondo Casadei, ecco a voi finalmente il DVD 80 anni in allegria con la musica di Secondo Casadei. Due ore di entusiasmante spettacolo con le note dal vivo della Grande Orchestra della Romagna, di Moreno Conficconi e Luca Bergamini e l'esibizione delle migliori scuole di ballo. Presenta Marco Senise, ospite d'onore, il maestro Roberto Pregadio. Per informazioni edizioni musicali Casadei Sonora 0541 945259 info chiocciolacasadeisonora.it richiedetelo a casa vostra, non può mancare. Oggi sono in piedi perché mentre vanno i videoclip io poi mi scateno. Adesso la polca, insomma, caro mio Alberto, non è che me la cavi veramente, hai detto tra me e te, non me la cavo proprio benissimo, però il valso è la mazzurca, già ci siamo. Adesso ci scateniamo veramente tutti, adesso Alberto tu quando parte il videoclip appoggerai la telecamera, io sono certa di questo perché arriva il tornettone dell'estate. Gatto Amico con il gruppo Grande Evento per tutti voi. Gatto Amico, Gatto Amico. Na 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 na. Gatto Amico. Gatto Amico, Gatto Amico, in vacanza mi hai portato. Gatto Amico, Gatto Amico, e mi sono innamorato. Gatto Amico, Gatto Amico, tocco il cielo con un dito. Seguo il ritmo dell'amore. Gatto Amico, seguo te. Ola, ola, palla, palla. Ola, ola, gira, gira. Ola, ola, salta, salta. Sappia, sole, mare, Gatto Amico. E tu, e tu, amico sempre tu. Gatto Amico, Gatto Amico, in vacanza mi hai portato. Gatto Amico, Gatto Amico, e mi sono innamorato. Gatto Amico, Gatto Amico, tocco il cielo con un dito. Seguo il ritmo dell'amore. Gatto Amico, seguo te. Gatto Amico, tocco il cielo con un dito. 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 Tocca, tocca, petto, petto, tocca, tocca, cabeza Gatto amico, gatto amico, in vacanza mi hai portato Gatto amico, gatto amico, e mi sono innamorato Gatto amico, gatto amico, tocco un giro con un dito Seguo il ritmo dell'amore, gatto amico, seguo te Tocca, tocca, mani, mani, tocca, tocca, cabeza, cabeza Gatto amico, gatto amico, tocco il giro con un dito Seguo il ritmo dell'amore, gatto amico, seguo te Seguo il ritmo dell'amore, gatto amico, seguo te Seguo il ritmo dell'amore, gatto amico Amici cari, vado subito a farvi il riassunto di quelle che sono state le canzoni che abbiamo ascoltato quest'oggi insieme, Che te ridi! Vabbè, sto parlando con il nostro fonico, tecnico di ripresa, che più ne ha più ne metta Alberto Panto, le lo ringrazio subito, proprio così Allora, vado a farvi il riassunto di quelli che sono stati i brani, quindi i videoclip che abbiamo visto insieme nella giornata di oggi, Renzo il Rosso con un midly di brani romagnoli i ballerini che ci hanno proposto questo carnevale romagnolo, questo waltzer Cercami con il Sosa di Renato Zero, che è Fabio Ricci, che saluto e ringrazio La nuova Romagna Folk con Serenella e grande evento hanno concluso in queste spiagge insieme a tutti gli amici che hanno ballato insieme a loro con Gatto Amico Qui c'è saluti da parte di Letizia, ringraziamenti ai tecnici, allo staff, a tutti gli emittenti del circuito Io appoggio così questa mia cartellina Non mi inquadrare proprio da vicino Alberto perché mi sto emozionando Si conclude così questa puntata di oggi, come ogni giorno io vi ripeto da un po' di tempo a questa parte Si conclude però anche questa edizione 2008-2009 di Romagna Mia Vi prometto che arriveremo nelle vostre case prestissimo, tra qualche giorno con una veste veramente nuovissima, rinnovatissima e soprattutto estiva perché vogliamo divertirci ma vogliamo far divertire soprattutto voi Insieme a noi, insieme a me ci sarà un cast veramente meraviglioso Io però voglio ringraziare questo cast che mi ha accompagnato in questa avventura di quest'inverno Soprattutto lui Alberto che è qui con me in questo momento e che suda ogni giorno per la realizzazione e l'ottimizzazione di queste puntate Lo ringrazio, ringrazio soprattutto per anche la pazienza che ha avuto nei miei riguardi Ringrazio voi ancora una volta di essere stati in nostra compagnia Come sempre vi aspetto per le nuovissime puntate di Romagna Mia Estate a tra pochi giorni Vi lascio in compagnia di quest'emittente meravigliosa che ringrazio e saluto come sempre Un bacione dalla Romagna come sempre da Letizia Valletta A casa dei, ciao! Secondo a nessuno, secondo a nessuno, secondo a nessuno Ciao! 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 Grazie a tutti.